Questi sono i lupi di Gubbio. Germano, come va? Sotto le guerre pugniato. È un pochino indaffarato, perché poi tra l'altro quando loro vengono a mia non vorrei che vengono con due cani, guardate. Il parterre dei lupi di Gubbio. È bello vederli in branco, nel vero senso della parola. A quando la nuova cucciolata? La prossima cucciolata a giorni? Due, tre giorni? Io volevo fare una piccola tiratina di orecchie all'amico Germano, con noi siamo diventati amici. Perché se non sbaglio, c'era una cucciolata un anno fa e noi eravamo stati invitati insieme al vicepresidente e mia verso Gubbio, perché lui ci voleva proporre, far vedere allo stato naturale i cani, però aveva il tartufo da farci assaggiare. Esatto. È come il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. È una mancanza reciproca mia. No, ci andremo perché adesso nascerà la cucciolata, quindi mia andrà a riprendere. Allora, io vorrei parlare, che non abbiamo mai parlato, del rapporto che c'è, ci potrebbe essere tra il lupo e il gatto. In alcune circostanze... Dipende, mi dicevi, da come crescono, no? Dipende, se cresci in un ambiente familiare, con amici, anche Caspian, il campione dell'altra volta, c'è un coniglio in casa, tranquillamente. Non lo mangia? Io non mi fiderei molto, ma insomma, tanto loro hanno un istinto predatorio, no? Prima o poi. Guarda, Germano, che cosa abbiamo trovato sul web. Questo è un gattino che si è nascosto dentro la scatola. Il lupo è sotto. E ci giocano, guarda. Ci giocano, sì, sì, sì. Elisabetta, è possibile questo rapporto? Anche se uno pensa, il lupo, che comunque sia apparentemente la stazza, sentite come ringhia, però sono comunque cani buonissimi, lo ricordiamo, perché dipende sempre da come uno li educa. Sicuramente in realtà loro stanno comunicando, il lupo cecoslovacco è fra i cani più comunicativi che esistono. Utilizzano tutto il vocabolario cinofilo che hanno a disposizione. Ed è un vocabolario ancestrale, diciamo, che origina proprio dai geni più antichi che possiedono. Per quanto riguarda il cane e il gatto, sì, però con delle cautele, nel senso che il predatorio è comunque forte. Ma se crescono insieme e diventa il gatto parte della famiglia, del branco, è possibile che venga accettato. Quindi si può fare, ma chiaramente sempre rispettando gli spazi di titolarità e l'etologia di ciascun animale. Che carattere ha generalmente il lupo? Il lupo cecoslovacco è un animale con una fortissima attitudine di branco. Questo va rispettato e compreso, nel senso che soffre molto la solitudine. Non è assolutamente indicato tenere un lupo cecoslovacco anche se si ha un giardino enorme. Perché solo quello non gli basta. È proprio necessaria la socialità ed avere chiara l'appartenenza al branco famiglia. Soprattutto bisogna che sia chiaro qual è il suo status all'interno del branco famiglia. Quindi sempre sono qui anche a ricordare che prendere un cane significa prima informarsi, documentarsi eventualmente, farsi seguire nella pre-adozione e nella post-adozione per evitare poi delle spiacevoli conseguenze che nascono dalla non conoscenza dell'animale. Proprio perché loro, avendo questo caisma, sono un po' ambiti. Però poi dopo cominciano i canili a essere frequentati da cani rupi cecoslovacchi perché non sanno più dove mettere le mani, non li gestiscono. Però è molto giusto quello che diceva l'Elisabetta, che tra l'altro appoggiarsi a dei comportamentalisti qualificati, non veterinari, oppure pseudo-veterinari a volte che si spacciano per etologi. Quindi invece c'è una specializzazione vera e propria che comunque seguire i consigli sia per varie razze impegnative, ma questa, come diceva Elisabetta, è affascinante ma bisogna conoscere la titolarità del loro comportamento. E quindi ben venga il suggerimento giusto che poi anche gli allevatori dovrebbero indirizzare, oltre che dare il consiglio giusto, proprio per non avere rientri spiacevoli da parte di questi uffici, che uno lo vede in televisione sulla neve, voglio il lupo e poi dopo non sa gestire la situazione. Credo anche che sia importante che l'alvatore selezioni la famiglia giusta a cui affidare il cane, perché poi insomma il problema nasce anche da un passaggio di consegna dell'animale che può non essere sempre corretto, quindi ci vuole attenzione a tutti i livelli. Grazie dottoressa, sempre preparatissima. Allora passiamo il gelato ai nostri ospiti che hanno scelto il lupo cecoslovacco, una battuta per uno, il perché? Allora, io ho scelto il lupo cecoslovacco perché grazie al signor Germano Masci che mi ha fatto conoscere meglio questa razza e oltre averla studiata cinque anni prima perché non è un cane ma è un lupo, quindi non bisogna avvicinarsi a questa razza con la semplicità che sia un cane, non è così. Va gestito in una maniera molto particolare. Bisogna essere il leader per questi cani, non bisogna lasciarli mai soli, altrimenti purtroppo fanno danni perché sono così loro. Passaggio veloce. Infatti qui diamo gli snack della vita craft per farli stare buoni. Mi piaceva, ero affascinata dalla razza, mi piacciono le sfide, ho conosciuto Germano, mi ha documentata, mi ha seguita in tutta la crescita di lei e a tutt'ora se ho un problema lo chiamo, va bene così, sono felice, sono contenta. Bene, bene. E poi, infine... Anche a me piaceva molto questa razza e tornando al discorso di prima, lui vive con cinque gatti in casa. Ah, vedi? Un San Bernardo. A volte capita di trovarlo per casa, che gira col gatto, l'ha preso in bocca, capito? Quindi sono molto testardi, è una razza comunque che non è facile da gestire per niente. Però se uno ha molto amore per loro, gli sta dietro, in qualche modo riesci a... Ed è anche una razza affascinante per avere dei ritorni atavici a come si comporta l'animale selvatico, quale è il lupo, da dove abbiamo imparato a selezionare le razze canine in total modo e magari un ritorno alla naturalezza dei comportamenti e di insegnamento del branco, che diceva prima Elisabetta.